Musica Nel 250esimo anniversario il Comando regionale della Guardia di Finanza traccia il bilancio dal 1 gennaio al 31 maggio. Attività a 360 gradi che hanno portato 28.000 interventi ispettivi e oltre 3.000 indagini. Dalle evasioni fiscali 325 e quelli totali individuati dalle fiamme gialle ai lavoratori in nero 534. Questo è un argomento che noi abbiamo posto sempre alla nostra massima attenzione. Questi numeri la dicono abbondantemente sull'efficacia dei nostri interventi. Chiaramente interventi che non terminano ma che in futuro saranno sviluppati in maniera più efficace e più incisiva proprio per dare un chiaro segnale ad un argomento che necessita di una rilevante attenzione. Massima attenzione anche alla tutela della spesa pubblica e caccia ai furbetti di bonus e sovvenzioni. In tal senso sono stati effettuati 592 interventi di cui 378 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. Nel momento in cui poi alla fine ci sono i soliti furbi, le solite persone che in maniera sconveniente, in maniera scorretta approfittano, è evidente che queste azioni particolarmente odiose trovano una nostra mirata attenzione, un nostro mirato intervento e quindi sotto questo profilo a mezzo delle nostre attività investigative e soprattutto di controlli preventivi riusciamo ad arginare. Occhi puntati naturalmente sul porto, quello di Ancona in primis dove solo poche settimane fa è stata portata a termine una maxi operazione sui farmaci illegali, ma c'è anche il contrasto alla droga. I reparti marchigiani hanno sequestrato in territorio nazionale ed estero circa 1250 kg di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da cocaina, circa 41 kg, hashish, oltre 206 kg e marijuana, oltre 1000 kg, sostanze che avrebbero fruttato sul mercato illegale svariati milioni di euro. Denunciati all'autorità giudiziaria 269 soggetti, di cui 46 in stato di arresto, segnalate 699 persone ai prefetti. Ci sono state anche recentemente delle attività di carattere internazionale che hanno individuato traffici di droga che portavano dal nord Europa, addirittura qui nelle Marche. Quindi posso semplicemente dire che anche su questo argomento il livello di attenzione investigativa sotto la sapiente regia della direzione distrittuale di Ancona è sempre alto, massimo e quindi lavoriamo.